Il quittordis de Genè, Sogn Felizi, Auxenia e Marta Sogn Felizi fei il d'incont della Siria una sciosa nuova in mercato di Neapol. Avanti venire Auxenia fu vela un cleric che liberava via persone del nostro spazio. Da quei tempi fuva la baseglia esgargevla mai perseguitata di Tiranze. Particolari mai veniva nel spirituale cercare di spiare per che le soli siano senza pastura. Sogn Maximus oeste anola che fuva veli e flaiveli per traccia di fuggire da quei roghi truameni e sordati i nostri spiare a Sogn Felizi. Il cese va si in le montonje e in l'aul, per quai qu'il stiranze ha un buc'n flau il sognu esch, han el spiljau sogn Felizi e me zelen cadaines. Ins ha fierze e l'en inestire per giun che fuva curclada con scaldjes da glas e da tiara coche per che s'pergiuniers hagen ni da di, ni da noc'ro aus. Ai fuvo un vero ed il bianuesc Maximus veniva moderdiaus di il frate della fom e fosse un sapple buge ammorti di martiri che da stare lonti n'avendo si uffidaeva il pievel. In Angle comparo Sogn Felizi con gronda clarezza e camonde da lavarsi, pia raggiù la scadainese fuggirò per giun per gli dar il bianuesc Maximus. Sogn Felizi che er teve che seguimo insieme e sin quei repeti gli angli il camon per la seconda gà. El obedece agli angli e va agli uaul, asciia sa el liberare la vetta l'uec Maximus con dar ad Elziu agit. Ma Sogn Maximus aveva os ne gine posso e pli per i rapai. Sogn Felizi, tot mu un taus da gronda pietat, preni il flai per l'uec se dies e porta quel pux paio una voce al mercato da nola. L'euro venen els ci paio di ne velleta, toccan ke la persecuazione ha sceau su enter. Pli tard, feg vels e ser l'u mort spiade main. Den ton ai sogn felizi se rendiu sen in l'uec pli segir e resta us lau el ci paio in mia zon. Da diu veni evel miracoloso main spizgien daus con la vivonda, che ne doni metteve minchia deal med dem l'uec, senza se veken si chi fosse lau. Mainz ward veni evel vizitau d'il Zangels, scoera de Christus ets. Cura che ha pux pedaura ause in la tiara e se l'turnau se l'marcau. Ili antir pievel decidirava que l'acceptasi il episcopat, ma il humilitaevel survien da diu ha bocabugliu tale dignitat e cediu quella ad inauter diu en spiritual. Si marvellus escollo humilitonza da soin Felicia estada a si paupers vova siu apostolat. Lui aveva visto su ente in tutta humilitanza e parteva con i paupers quei che restavano anche dell'e. Si zoncon sia schliata rassera il contenz e che il sorveneve in autra, lui deve l'amera al paupers. Su ente aver celebrava la sonntia messa la domenica, il 14 de generi 1310, e se l'entraus e la gloria di il perviso. Las miracles davantadas per si a fossa fovan zoonumerosas.